Io la vedo così, le prendo insieme le due domande, la domanda di Keits e la domanda di Vergenia. Non sono nelle condizioni di mappare lo stato dell'opinione pubblica. Intervenendo in Parlamento abbiamo sottolineato come a nostro avviso vi sia una parte dell'opinione pubblica europea, insegnatamente di alcuni paesi dell'Unione Europea, non necessariamente soltanto alcuni paesi grandi dell'Unione Europea, quindi detta fuori di metafora, non soltanto la Germania, che vedrebbero di buon occhio l'uscita della Grecia dall'Eurozona. Il mio giudizio sarebbe un errore e non Keitsi per le ripercussioni sull'Italia. Lo dico con molta chiarezza, l'Italia dopo quello che è accaduto in questi anni non è più dalla parte dell'imputato, non è più dalla parte dello studente da riprendere, questo è un fatto positivo di cui dobbiamo essere felici, naturalmente le conseguenze sarebbero su tutta l'Eurozona, ma non segnalamente sul nostro paese, perché se c'è una cosa che è evidente, il cui che tanti evidenzano come una misura procrescita, è innanzitutto una sorta di grande scudo rispetto ai problemi finanziari o della possibile emergenza finanziaria, quindi noi non siamo preoccupati per l'Italia, noi siamo preoccupati per l'Europa, cioè se esce la Grecia è una sconfitta per l'Europa. Naturalmente perché si arrivi a bloccare la Grexit, c'è la necessità da parte del governo greco di dare un concreto orizzonte di interventi, i greci e il primo ministro Tsipras sostengono di averlo fatto e di aver fatto dei passi in avanti, in parte delle istituzioni non c'è la stessa opinione, almeno anche nei dettagli, perché è del tutto evidente che ormai siamo molto vicini a un punto di accordo. Io se mi domandate tu pensi che domani si possa chiudere l'accordo? Io penso di sì, spero di sì e credo di sì. Lo faccio non per un atto egoistico come italiano, lo faccio per un atto politico come europeo. Naturalmente occorre che tutti facciano l'ultimo miglio o forse qualcosa in meno dell'ultimo miglio e credo che ci siano le condizioni perché ciò accada.